Buonasera a tutti Adesso non quadrati bene Un quadrato Buonasera a tutti Vabbè, ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Sempre così Allora, come ci avete chiesto Il fatto mi esiste a me Voi parlate Come ci avete chiesto Sotto un video precedente Facciamo il Whisper Challenge Ma quella è la notte di Lei intanto canta E la notte la canna C'è mamma che sta parlando E facciamo il Whisper Challenge Allora, spieghiamo cos'è il Whisper Challenge Perché lui non lo sa Che è sta roba? Allora, il Whisper Challenge sarebbero 5 frasi, 5 domande Che io oggi faccio Non telefirma Go su Whisper Go su Whisper Sì Allora, sono 5 frasi Che io ti faccio Tu devi capire la frase che ti faccio La frase che ti sto dicendo E devi darmi la risposta Tutto questo con le cuffie Quindi tu non mi sentirai Dovrai capire la finale Allora, prendiamo le cuffie Puoi iniziare tu o iniziare tu? No, sono manco le domande fatte Fai tu Ok Ma che gli chiedo io Prendiamo le cuffie iPod Che musica vuoi ascoltare? Ma fa un po' come vuoi Che musica vuoi ascoltare? Allora Facciamo Facciamo Aspettate perché non eravamo Non eravamo preparati per niente Almeno io No, io non lo volevo fare Te l'hanno chiesto Prossima volta Fate la faria Tu sei cattivo Tati bari Poi io a tutti Però fate la faria Allora Qua ti metto latinoamericano Va bene? Ma per me rocker roll Però dimmelo quando passi Da una canzone a un'altra Perché se no tu Cioè Cioè Basta che non parli Basta che non parli Basta che non parli Basta che non parli Vabbè Cioè se tu fai il labiale Senza parlare Mettiamo questa I cambiamenti Dimmi quando parte Partirà Sta che partì Dimmi quando parte proprio a Partito Tutto Ti sento Dimmi se è partito È partito Ok Basta che fai il labiale Senza parlare Eh appunto Certo Allora Allora Tu zitta eh Allora Allora Qual è il mio cibo preferito Il mio cibo preferito L'ho capito Qual è Aurora Il mio cibo Non parlare Qual è Fa il labiale senza parlare Perché mi senti Un po' sì Chiudite così Così me senti Oh Ti sento uguale Che pillole Vabbè Qual è il mio cibo preferito Non ho capito che è di preferito Preferito cosa Vabbè io ve la scrivo qui la frase Perché se no non sentite Qual è il mio cibo preferito Basta Cibo Sushi Bra 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 Seconda frase Che film abbiamo visto ieri sera Il primo Che film abbiamo visto ieri sera C'è regalito qualcosa Io no Che film abbiamo visto ieri sera Non capisco che dici Prova Boh Che film abbiamo visto ieri sera Grazie Che film abbiamo visto ieri sera Ma lui Io abbiamo visto Fast and Furious Che mi è piaciuto Ah Fast and Furious 5 Ieri sera Vabbè Terza frase Fino adesso Stai perdendo Eh non capisco quello che dici Ti dico Terza 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 Il mio attore preferito Johnny Depp Johnny Depp Che ti ho chiesto? Il tuo attore preferito È che Johnny Depp Il mio attore preferito Raul Boa Raul Boa Raul Boa Almeno una Che ne so È specifica Non si sa Americano Italiano Vabbè ma mi hai sentito allora Mi hai sentito? No Ho capito quello che hai detto Ok Quarta Il secondo nome di Aurora Anche io Hai capito? No Ora si è fermata la musica Quindi fermo Ma non parlare Aurora mettiti giù però Ma usa il labiale senza parlare Ma forza con lei così Usa il labiale senza parlare Oh Guarda Non ci arriva Dimmi quando inizia Sempre quella No è un'altra Ah carina Valla sul divano Vieni più avanti Piano questa È iniziata ma sta chiacchierando Adesso piange Adesso 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 Quello Ancora ghiacchiera Ancora ghiacchiera È il quaderno Quello È iniziato ma sotto sotto Vabbè te la faccio lo stesso Guardami Guardami Il secondo nome di Aurora Non parlare Labbia E basta Labbia Allora mi senti Ehm 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 Che cosa hai capito Che cosa hai capito Qual è Basta No Quante Quanti anni stiamo insieme Quanti anni stiamo insieme Senti Allora Vabbè ora tocca a me comunque Guardate Ehm Ehm Oh è più bravo di me un labbiale che devo fare Quanto è un quadrato Questo Quanto è un quadrato Qual è il mio preferito Qual è il mio jeans preferito Ah cimbo preferito Ah cimbo preferito Ah cimbo preferito Ehm Ah Tutto La pizza Mangia tutto Diciamo di sì Un altro cecchio Un altro quadrato Un altro cecchio Ehm Un altro quadrato Un altro cecchio Un altro quadrato Una Che hai detto Qual è La mia Qual è la mia attrice Showgirl preferita Michelle Luziger Dai siamo pari Quella di prima Non la metto Eh Però lei capisce il labbiale Io no Va bene Dai siamo pari 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 Dai me ne mancano altre tre A me No altre due Me ne mancano Qual è la mia musica preferita Rock La mia musica preferita Ehm Ho superato Ma capisci tutto Ho superato Dai Fai l'ultima Aspetta Aspetta Perché Non c'è la musica Ho superato Ho superato Ho superato Ho superato Ho superato Andes Dai La mia musica preferita È rock E qui stanno Ascoltà A parte che mi piace Pure questo L'ultima musica preferita Avvisami Qual è il mio lavoro Piostrellista E vince E vince Sabe stu Porche E vince 4 a 2 4 a 2 Come fai da capire il labiale 4 a 2 Io sono nato sordo 4 a 2 Ha vinto Vico io Ma io non lo capisco il labiale Che devo fare Vico io Allora C'è una punizione No No Non c'è Ho perso Io Metta vino Mi vicino Metta vino Accetta la sconfitta E se ne va Ciao È proprio Persimo Così Cosa Non capisco il labiale Allora E mica Non è che sono andato sordo Vabbè Ci facciamo dire Una rivincita Non fa una rivincita No Io sono contento così Vabbè Mi senti divertiti So questo Basta Vabbè Niente rivincita Basta Che Pasquetta alternativa Grandi Pasquette Dai Salutiamo Buona Pasqua Buona Pasquetta Buona Pasquetta Ciao Buona Pasquetta Aurora E Alessandro E noi Sì Ciao 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 Io Non mi piace fare questo Però Non lo so Non lo so se ci rivedremo Se ne volete un altro Vabbè Nel dubbio Arrivederci Se ne volete un altro Scrivetelo qui sotto Eh Nel dubbio Ciao No no Non faccio challenge Basta Mi faccio tutti i giorni challenge Io Vabbè Bella Ciao Bella 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 Ti faccio Bello Non sono un cane C'è Dove E T'